Un'edizione da leccarsi i baffi, la ventiduesima di Eurociocolate, il festival internazionale del cioccolato che ogni anno ad ottobre attira a Perugia un popolo di golosi proveniente da ogni parte d'Europa. E' proprio Musta Shock da leccarsi i baffi e il claim scelto per l'edizione 2015 di Eurociocolate che come sempre propone al pubblico diverse iniziative ed eventi nell'evento. Oltre ai consueti stand per la vendita di prodotti a tema, dislocati nel centro storico del capoluogo Umbro ci saranno anche novità, dal baffo da Guinness, 3000 kg di cioccolato fondente scolpiti dal maestro Andrea Gaspari, alla mostra dal titolo Sulla Bocca di Tutti e alla bafferia Live Mi fai un baffo, spazio aperto a tutti e dedicato alla cura del look dal sapore hipster. Spazio anche al vino e all'olio con il neonato progetto Umbria da leccarsi i baffi, frutto di una partnership tra Eurociocolate, Movimento Turismo del Vino Umbria e Associazione Regionale Strade del Vino e dell'Olio dell'Umbria, allo scopo di promuovere il territorio e le sue eccellenze enogastronomiche. Un'edizione che serve anche per promuovere un'Umbria fatta non solo di cioccolato ma di tanti altri sapori, appunto, dalle casi i baffi, non a caso nasce un progetto che cerchiamo di spingere molto, quello di andare da Perugia a visitare altri luoghi della città, del territorio per promuovere quello che secondo noi è un vero decentramento dell'evento. Patrocinata da Regione Umbria, Provincia, Comune e Camera di Commercio di Perugia, Ico e Fair Trade, Eurociocolate vede tra i suoi numerosi sponsor anche la società Satiri Auto. Partecipiamo alla sponsorizzazione di Eurociocolate perché crediamo in questa manifestazione che ha carattere internazionale, come crediamo in tutte le attività che sta portando avanti la città di Perugia e lo dimostriamo con il fatto che negli ultimi due anni abbiamo investito con due sedi in questo territorio. Mi auguro che questa collaborazione continui nel tempo perché a noi sta dando tante soddisfazioni, quindi spero vivamente di poter dare concretamente il nostro contributo a questa città. Dal 16 al 25 ottobre, durante la manifestazione, chi acquista la ChocoCard può partecipare all'omonimo concorso e vincere uno dei 110 premi messi in palio. Il primo premio è una Fiat Panda 1200 Easy fornita proprio da Satiri Auto. Mi auguro che la macchina che noi abbiamo messo in palio, che è un'intramontabile Fiat, sia di buon auspicio per questa manifestazione che mi auguro, vista la risonanza internazionale che ha, rimanga intramontabile nel tempo.